Il centro Mindfulness Firenze è un centro che offre servizi di psichiatria, psicoterapia e mindfulness e siamo un gruppo multidisciplinare di specialisti, ognuno con una sua area di maggior specializzazione. Infatti c'è la terapeuta per l'infanzia e per l'adolescenza, la terapia di coppia, il sessuologo, i terapeuti EMDR per l'elaborazione del trauma, i terapeuti mindfulness e poi una dietista per l'area della nutrizione. In questo momento la maggior parte delle nostre attività prosegue online, compresi i corsi di mindfulness per la riduzione dello stress, gli incontri di meditazione e yoga. Potete vedere tutte le nostre attività sul sito internet www.mindfulnessfirenze.it e sulla pagina Facebook Mindfulness Firenze e sul profilo Instagram Centro Mindfulness Firenze e potete iscriverci naturalmente all'indirizzo email mindfulnessfirenze.gmail.com. Vi aspettiamo! E adesso vi presento i membri del gruppo. Buonasera, sono Luca Calzolari, sono psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, didatta supervisore presso studi cognitivi e mi sono perfezionato in un sessuologia clinica e nell'ACT, che è un modello sempre di terapia cognitivo comportamentale basata sull'accettazione e l'impegno. Io mi chiamo Marzio Maglietta e sono un medico, specialista in psichiatria e psicoterapeuta orientamento cognitivo comportamentale. Salve a tutti, sono Caterina Franci, sono una psicologa clinica e una terapeuta cognitivo comportamentale. Nella mia libera professione mi occupo prevalentemente di problematiche legate all'ansia, all'umore e in particolare mi occupo da diversi anni di disturbi della personalità. Buongiorno, mi chiamo Benedetta Paoletti, sono un'operatrice sanitaria abilitata alla professione di dietista. Presso il centro Mindfulness Firenze mi occupo di tutta quella che è l'area nutrizionale, dall'educazione alimentare all'elaborazione di piani dietetici personalizzati per varie esigenze nutrizionali. Ciao a tutti, io sono Elena Mannelli, sono una psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, terapeuta EMDR e insegnante di Mindfulness. Sono Luciana Rotundo, una psicologa clinica, una psicoterapeuta cognitivo comportamentale e una terapeuta EMDR. Ciao a tutti, sono Emiliano Tavangiu, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Svolgo le sedute di psicoterapia nella lingua italiana e anche in quella albanese. Ciao a tutti, sono Margherita Lazzerini, psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale e terapeuta EMDR. Buongiorno, sono Marina Ciampelli, sono un medico psichiatra e psicoterapeuta e insegnante di Mindfulness. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti